Benvenuti e benvenuti a questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda per gli inserimenti e gli aggiornamenti nelle gradatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 28 maggio fino alle ore 23 e 59 del 28 giugno. Le domande dovranno essere presentate attraverso l'usuale portale Polis Istanze Online del Ministero a cui si può accedere cliccando su questo link oppure in alternativa basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare alcune parole chiave come istanze online e comparirà subito fra le prime ricerche. Per accedere al portale si può cliccare su accedi direttamente da qui in corrispondenza della voce gradatore di circolo terza fasciata oppure come di solito cercare il riquadro accesso al servizio in basso a sinistra e cliccando su accedi. Per effettuare il login ricordo che non è più possibile dal 2021 utilizzare le vecchie credenziali che si compilavano in questi riquadri username e password ma bisogna utilizzare uno di questi quattro servizi. I più comuni sono lo speed e la carta d'identità elettronica. Dopo aver effettuato il login se non ci compare il banner giallo clicchiamo in alto su istanze online e poi su accedi direttamente da qui in corrispondenza delle gradatorie terza fasciata. Dopo aver letto l'informativa andiamo in fondo e clicchiamo su ho preso visione dell'informativa e poi su accedi. Clicchiamo su modifica per modificare la domanda. In questa sezione dobbiamo scegliere la provincia. Nel caso di nuovi inserimenti lo si potrà fare cliccando su questo meno a tendina e selezionando la provincia nella quale ci si vuole inserire in gradatoria. Nel caso di aggiornamenti come il mio sarà selezionata di default la provincia scelta nell'aggiornamento precedente. Come scritto nel riquadro in giallo nel caso in cui si voglia modificare la provincia bisognerà andare avanti con l'istanza eliminare tutte le sedi che erano state precedentemente inserite e a quel punto sarà possibile modificare la provincia. In questa seconda voce invece dobbiamo inserire l'istituzione scolastica all'interno della provincia che vogliamo tratti la nostra domanda quindi che la analizzi e calcoli il punteggio. Nel caso degli aggiornamenti come vediamo è sempre selezionata di default quella scelta nell'aggiornamento precedente che però è subito modificabile. Basta cliccare sulla lente di ingrandimento, selezionare il comune, cliccando su cerca compariranno tutte le scuole del comune quindi basterà poi selezionare la scuola e cliccare su seleziona. E ricordo che questa scuola scelta sarà inserita automaticamente fra le sedi in cui si sceglierà di inserirsi in gradatoria. Bisogna poi selezionare queste due voci e clicchiamo su avanti. Dopo aver verificato la correttezza dei nostri dati personali clicchiamo ancora su avanti e accederemo a questa pagina in cui è possibile selezionare tutti i profili per i quali possediamo i requisiti e nei quali vogliamo inserirci. Per sapere i requisiti d'accesso per ogni profilo basta consultare il CCNL del comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021. E abbiamo una novità. A partire da quest'anno, ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico, per tutti gli altri profili sarà richiesta anche la certificazione di alfabetizzazione digitale. Quali sono le certificazioni che rientrano in questa categoria? Sono tutte quelle certificazioni informatiche rilasciate da enti che sono stati ricreditati da Accredia, un ente di accreditamento nazionale. Al momento non sono tante le certificazioni che rientrano in questa categoria ma in futuro potrebbero aumentare. In ogni caso coloro che non possiedono questa certificazione potranno comunque inserirsi o aggiornare le gradatorie di terza fascia ma avranno tempo fino al 30 aprile 2025 per ottenere tale certificazione. Per modificare o inserire un nuovo profilo clicchiamo su modifica le scelte. Clicchiamo su procedi e nella colonnazione selezioniamo aggiornamento per il profilo di assistente amministrativo in modo da poter inserire i nuovi titoli culturali e di servizio e quindi poter aggiornare il punteggio. Invece selezioniamo inserimento per il profilo di collaboratore scolastico. Una volta concluso clicchiamo su avanti. Accediamo finalmente all'istanza che è strutturata nel seguente modo. Ci sono prima i profili in cui si si è inseriti, la prima sezione di ogni profilo riguarda i requisiti d'accesso, la seconda sezione invece i titoli culturali valutabili. Le sezioni marcate da un asterisco sono sezioni da compilare obbligatoriamente. Diversamente la domanda non può essere inoltrata. Successivamente ai profili troviamo altre sezioni, alcune obbligatorie sempre indicate dall'asterisco, altre invece facoltative. Procediamo adesso a vedere come compilare i requisiti d'accesso per un profilo di nuovo inserimento, in questo esempio collaboratore scolastico. Per farlo clicchiamo su azioni disponibili in corrispondenza del nome del profilo e poi si inserisci. Per prima cosa selezioniamo il titolo che ci dà accesso al profilo di collaboratore scolastico. Nel mio caso ho un diploma di maturità qualsiasi e quindi dovrò selezionare la prima voce. Bisogna poi indicare l'anno di conseguimento, la votazione conseguita, indicando anche eventuali frazioni di voto e la base. Questo è importante perché ci sono alcuni voti dei diplomi di maturità che sono in centesimi e altri invece che sono in sessantesimi. E come possiamo osservare il sistema converte automaticamente il voto in base 10 attraverso una proporzione. Bisogna poi indicare l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo e la data specifica. Nel caso di titolo conseguito all'estero invece bisognerà compilare questa parte. Bisogna inserire l'ente che ha riconosciuto il titolo, il numero del lato di riconoscimento, la data del riconoscimento e quella in cui è stata inoltrata la richiesta per il riconoscimento. Nel nostro caso, dato che non si tratta di titolo estero, questa sezione verrà rilasciata vuota. Infine, attraverso questo menu a tendina bisogna selezionare la modalità di accesso. Le varie modalità sono quelle elencate in questo riquadro giallo che sono chiaramente riprese dall'articolo 5,8 del decreto ministeriale numero 89 del 2024, il decreto di riapertura delle gradatorie di terza fascia. Nel caso in cui non siamo inseriti in alcuna gradatoria ata in alcuna provincia bisognerà selezionare la modalità A. Un altro caso tipico è quello di coloro che sono inseriti nelle gradatorie permanenti, cioè le cosiddette gradatorie 24 mesi e in questo caso bisognerà selezionare la modalità B se si è inseriti per altro profilo professionale nella stessa provincia oppure modalità D nel caso in cui invece si sia inseriti nel stesso profilo o in altro ma di diversa provincia. Bisogna però ricordare, questo è importante, che in questo caso l'iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima gradatoria per tutti i profili professionali per i quali si risulta inseriti. Una volta compilata la modalità clicchiamo su inserisci. Come possiamo osservare qui in alto compare un riquadro verde che ci informa di aver inserito con successo il titolo di accesso. Andiamo adesso a compilare i titoli culturali valutabili per il profilo di collaboratore scolastico. Per farlo ci posizioniamo in corrispondenza di questa seconda sezione titoli culturali e certificazioni informatiche cliccando su azioni disponibili e poi su accedi. Come possiamo vedere per collaboratore scolastico sono solamente due i titoli culturali valutabili. Andiamo ad inserire una certificazione informatica cliccando su azioni disponibili in corrispondenza della voce e poi su inserisci. Clicchiamo su aggiungi titolo, inseriamo il titolo della certificazione, l'istituzione che ha rilasciato la certificazione, infine la data di conseguimento. Una volta compilato tutto clicchiamo su inserisci. Anche in questo caso compare un riquadro verde che ci informa che il titolo è stato salvato con successo. Nei casi in cui invece si compila commettendo qualche errore compare un riquadro rosso e generalmente viene anche indicato il tipo di errore. Una volta concluso tutto l'inserimento clicchiamo su indietro per tornare alla pagina principale della domanda. Vediamo ora come compilare la domanda per l'aggiornamento di un profilo precedentemente inserito nel nostro esempio assistente amministrativo. Essendo stata introdotta la certificazione di alfabetizzazione digitale come titolo d'accesso dobbiamo andare a modificare anche la sezione relativa al titolo d'accesso. Quindi clicchiamo su azioni disponibili e su modifica. Nella prima parte troviamo i campi già compilati nel precedente aggiornamento relativamente al titolo di accesso. Scendendo troviamo poi il nuovo riquadro relativo alla certificazione di alfabetizzazione digitale. Fina possiede dovrà inserire il titolo della certificazione, l'istituzione che ha rilasciato la certificazione e la data di conseguimento. Chi invece non possiede ancora la certificazione ma ha intenzione di conseguirla entro il 30 aprile 2025 dovrà selezionare questa voce. Infine bisogna poi indicare la modalità di accesso. In questo caso non è presente la modalità di accesso A che abbiamo selezionato in precedenza in quanto in questo profilo eravamo precedentemente inseriti. Se si vuole semplicemente confermare aggiornare bisogna selezionare la modalità F. Una volta concluso clicchiamo su modifica. Compiliamo ora la sezione obbligatoria scelta preferenze di sede. È la sezione in cui andremo a indicare le scuole nelle quali vogliamo inserirci in gradatoria. Clicchiamo su azioni disponibili e su accedi. Nella sezione troveremo la scuola scelta inizialmente per la presentazione della domanda ed eventuali altre scuole inserite in precedenti aggiornamenti. Per eliminare scuole che non ci interessano più basta cliccare in corrispondenza dell'istituzione scolastica su questa icona rossa col cestino. Per aggiungerne invece basta cliccare qua su aggiungi, selezionare il comune, cliccare su cerca e compariranno tutte le scuole del comune. Si possono selezionare da qui e una volta selezionate tutte le scuole interessate basta cliccare su seleziona e compariranno qua in elenco. Per inserire scuole di altri comuni basta nuovamente cliccare su aggiungi e ripetere la stessa procedura. Ricordo che è possibile selezionare fino a un massimo di 30 scuole e ricordo inoltre che è indifferente l'ordine nella quale queste vengono inserite. Non si tratta infatti di un ordine di preferenza sulle supplenze ma di un semplice elenco di tutte le scuole nelle quali compariremo nelle gradatorie di istituto. Questa sezione infatti è molto importante perché andiamo a inserirci nelle gradatorie di istituto solamente delle scuole qui selezionate. Una volta conclusa la compilazione clicchiamo su indietro. Vediamo come compilare i titoli di servizio. Clicchiamo nuovamente su azioni disponibili in corrispondenza di questa voce e su accedi. Nella prima parte della sezione troviamo eventuali servizi svolti in scuole statali già pronti a sistema sono semplicemente da importare nella domanda. Attenzione perché questa è una funzione importante. Se non si clicca su importa i servizi non vengono valutati. Nella parte successiva invece si trovano eventuali servizi inseriti in precedenti aggiornamenti. Per inserire invece dei servizi ex novo che non compaiono nella prima parte basta cliccare qui su aggiungi titoli servizio. Vediamo ora come importare un servizio nella domanda. Come possiamo vedere diversi campi sono già compilati automaticamente bisogna inserire obbligatoriamente l'indirizzo altrimenti il sistema da errore. Controllare che tutto sia corretto e poi cliccare su inserisci. Come possiamo osservare il codice profilo di tutti questi servizi è WX. Questo perché si tratta dei servizi svolti come docente. Vediamo ora come inserire un nuovo servizio come assistente amministrativo. Clicchiamo in fondo a destra su aggiungi titoli servizio. Selezioniamo l'anno scolastico in cui è stato svolto il servizio, l'istituzione, la provincia, il comune specifico, l'indirizzo della scuola e poi il profilo. Possibile selezionare assistente amministrativo, tecnico, cuoco, operatori di servizi agrari, collaboratore scolastico, guardarobiere, infermiere, operatore scolastico oppure altro profilo per esempio per quanto riguarda i docenti. Ora faremo un esempio con assistente amministrativo. Bisogna poi indicare la tipologia del contratto di lavoro, di ruolo, quindi a tempo indeterminato, oppure non di ruolo, quindi di supplenza. La tipologia del servizio può essere svolto in scuole statali, convite o scuole italiane all'estero, oppure anche in scuole non statali, purché parificate, pareggiate o paritarie. Si possono anche inserire servizi svolti presso amministrazioni statali e antilocali, oppure anche progetti promossi dalle regioni. In questo caso supponiamo che si tratti di un servizio prestato in una scuola statale. Bisogna inoltre indicare la data di inizio e di fine contratto e infine bisogna controllare che il numero di giorni calcolati dal sistema siano corretti e poi cliccare su inserisci. Una volta concluso l'inserimento dei servizi, clicchiamo in fondo su indietro. Passiamo ora alla compilazione dei titoli di preferenza. Si tratta di titoli non valutabili, ma utili a determinare l'ordine in gradatoria nei casi in cui siamo a parità di punteggio con altri aspiranti. Questi titoli sono inseriti ed elencati in modo gerarchico, questo significa che ogni titolo di preferenza ha la priorità rispetto a tutti i successivi. Molti di questi titoli di preferenza sono poco comuni, quelli più comuni sono la lettera D, aver prestato l'odevole servizio per non meno di un anno nell'amministrazione che è indetto il concorso. Già nel decreto ministeriale numero 50 del 2021, che è quello che aveva determinato l'aggiornamento delle gradatorie a terza fascia nel precedente triennio, era stato chiarito che questa voce nel mondo della scuola equivale al cosiddetto servizio senza demerito, quindi può essere barrata da chiunque abbia prestato servizio per non meno di un anno in una scuola. Altra voce molto comune è quella dei figli a carico e bisogna anche indicare il numero dei figli. Ci sono poi altre voci, bisogna controllare appunto quali si possiedono una volta selezionate, basta poi cliccare su inserisci. Se non si possiede nessuno di questi titoli di preferenza, basta lasciare la sezione vuota. Infine vediamo come compilare l'ultima sezione, quella sulle altre dichiarazioni, che come possiamo vedere è una sezione obbligatoria. In questa sezione bisogna dichiarare alcune informazioni personali come la cittadinanza, il non avere più di 18 anni e meno di 67 anni, il possesso dei diritti civili e politici, l'obbligo di leva per le donne non è necessario spuntarlo, l'iscrizione nelle liste elettorali, bisogna specificare il comune, non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale e non essere neanche inabilitato o imperdetto, non aver riportato condanne e procedimenti penali, non essere un dipendente pubblico dello stato, l'idoneità fisica e poi l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali. Una volta compilate tutte le voci, clicchiamo su inserisci. Una volta conclusa la compilazione della domanda, bisogna cliccare in fondo su inoltre per inoltrare la domanda a sistema. Se ci accorgissimo di un errore, sarà possibile modificarlo entro la scadenza della domanda. Sarà sufficiente annullare l'inoltro e accedere nuovamente all'istanza, che si troverà esattamente come l'avevamo compilata, non è necessario ricompilare tutto da capo, modificare ciò che è necessario modificare e poi, attenzione, bisogna inoltrarla nuovamente. Non vale infatti il precedente inoltre e la domanda modificata non viene inoltrata automaticamente. Per ulteriori informazioni vi consiglio di consultare questa pagina del Ministero, in particolare questa sezione con le informazioni utili dove trovate anche le fac ministeriali, il decreto ministeriale numero 89 e vi consiglio ovviamente anche di consultare tutti gli articoli del sito www.orizzontescuola.it e i question time che è possibile vedere anche in differita sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola. Buona compilazione e a presto!